Allora, buonasera a tutti. Io sono la Sirena, sono ricoverata all'ospedale per una protesi. Purtroppo ancora andiamo a mangiare, però mi portavo giù nella stupata cazulta. Quando andavo mi portavo andiamo a peperoncino, olive, mi portavo tutti i colori. Mi dono una pastina e mi sento male. Io se non ho anduja moro. Come farei? Aspetta, mi pare mia non andava a casa, siamo già in guarigione e attaccavo con anduja, attaccavo con tutte queste cose. Perché se non ho anduja mi sento male. Ma è una settimana che mi sento male che non mangio anduja. A me anduja mi tenerle in piedi. Succedì, no? Che mi sento male di altre cose. Nel ginocchio. Mi faccio la protesi. Però ogni tanto non ho pezzi in due. Ma la mangio. Questa e questa. Non mi vede noi, non mi vede i dottori. Ma la mangio, ma la mangio. Non vi preoccupate che fa bene. Io vi saluto a tutti. Ci sentiamo e vi voglio bene a tutti. Dalla vostra Sirena. Ciao.